Comuni a zero profughi al rapporto in regione, convocati da Anci e dall'assessore regionale all'immigrazione Vittorio Bugli i 54 enti che al momento hanno rifiutato l'accoglienza migranti. Enrico Rossi rincara penalizzare chi non li ospita. Al via la campagna per la vaccinazione anti-influenzale, l'appello della regione toscana rivolto a tutta la popolazione, in particolare agli ultra 65 anni e a coloro che appartengono alle categorie a rischio. Rischio idrogeologico inaugurata la nuova cattedra Unesco all'Ateneo di Firenze. Questa cattedra, unica nel suo genere, ha osservato la direttrice Unesco, è importante non solo per l'Italia ma anche per il resto del mondo. Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione di Studio Tg. Apriamo il nostro telegiornale parlando di migranti. Regione Toscana e Anci hanno di fatto convocato i 54 comuni che al momento non accolgono nemmeno un migrante, più altri 50 che ne hanno un numero bassissimo. Con tutti ci confronteremo e chiederemo uno sforzo, ha così dichiarato l'assessore toscano all'immigrazione Vittorio Bugli, ma sentiamo i dettagli nel servizio di Alessio Pogioni. Ci sono i casi di Goro e Gorino e poi c'è la Toscana, quella che accoglie il 12% in più di quanto stabilito e che è stata costretta per mano del presidente del Lanci regionale Matteo Biffoni a scrivere al prefetto di Firenze per dire basta arrivi, ogni regione faccia la sua parte. Ma se l'appello di Biffoni è fondato su numeri chiari per essere puri con gli altri bisogna pur esserlo con se stessi ed è per questo che la regione toscana ha adottato la linea dura. Verranno convocati nei prossimi giorni in via Cavour a confrontarsi con l'assessore all'immigrazione Vittorio Bugli, i 54 comuni toscani che al momento non accolgono nemmeno un migrante e gli altri 50 che hanno numeri bassissimi. Ma quali sono i comuni che fino adesso hanno detto no ai migranti? Ernesto Ferrar dalle pagine online di Repubblica.it ha elencato qualche esempio. Follonica e Pietrasanta, Cavriglia e Monte Argentario tra i comuni più grandi, mentre la maggior parte sono comuni piccoli e spesso periferici. Ma la linea dura resta e a rincararla ci ha pensato lo stesso governatore Enrico Rossi. Quel che è essenziale, ha detto, è che Stato, regioni e comuni siglino un patto, una nuova intesa che rivoluzioni il sistema, siano le regioni e non i prefetti a programmare le accoglienze e i comuni gestiscano le risorse in modo da poter ad esempio decidere se prendere in affitto case sfitte o trovare accordi con le realtà migliori per l'accoglienza. Chiaramente deve trattarsi di un meccanismo che preveda premi e penalizzazioni. Fermo restando, conclude il Presidente, è che i numeri attuali dell'accoglienza in Toscana sono alti ma non drammatici. Non c'è alcuna emergenza, insomma. La Toscana, peraltro, è una delle poche regioni dove i privati cittadini possono accogliere in casa propria i migranti ricevendo anche un rimborso spese e ci sarebbero nuove proposte pervenute alla regione proprio per mettere a disposizione dei profughi appartamenti privati. Infine, proprio dalla Toscana arriva il salvagente per le 12 donne e 8 bambini di Gorino, ormai diventati un simbolo. È stato Marco Buselli, sindaco di Volterra, peraltro non appartenente all'area di centro-sinistra, a scrivere al prefetto di Ferrara per offrire accoglienza ai profughi di Gorino. Barricate contro donne e bambini, ha detto Buselli, una pagina vergognosa. Spero che il nostro gesto serva anche da segnale per far capire che c'è un'Italia diversa in cui l'accoglienza e il dialogo con i territori rappresentano valori che ci devono contraddistinguere come italiani. E si è tenuto proprio ieri a Firenze, presso l'Istituto degli Innocenti, un importante convegno sulla salute dei migranti. Ne ha parlato la direttrice del Centro di Salute Globale della Regione Toscana. Sentiamo le sue parole. Noi ci occupiamo di tutti quegli aspetti che hanno a che vedere con la globalizzazione e la salute. In questo caso la migrazione è un fenomeno globale, è un fenomeno che influisce la salute tanto dei migranti che arrivano qua come anche delle nostre popolazioni. E allora quello che noi fondamentalmente insieme all'Agenzia stiamo lavorando è da una parte una raccolta dei dati per capire esattamente qual è la situazione e poi stiamo sempre di più articolando una risposta sanitaria integrata per quanto riguarda le nostre aziende sanitarie in modo di prenderci in carico i bisogni di salute di questa popolazione. Tenendo conto che una parte sono i migranti residenti, quelli che stanno qua da anni, che oramai si sono adeguati, quelli che hanno un medico di famiglia e poi quello che sono il nuovo fenomeno così emergente, anche se siamo in emergenza da un po' d'anni, che è quello dei richiedenti di asilo e protezione internazionale. Quello è un altro fenomeno. L'importante però è essere in grado di rispondere tutti in maniera integrata a quello che è la problematica di questo momento che è storico che stiamo vivendo. E migranti in Toscana però vuol dire anche buone pratiche come quello che succede a Calenzano dove in vista della mostra del mercato dell'olio che partirà appunto il prossimo 12 novembre i migranti ospitati nel comune hanno raccolto i frutti degli oliveti comunali. Ce ne parla Elena Andreini di Piananotizie.it L'anno scorso noi abbiamo ricoltato le olive e dopo siamo venuti ancora a buttire. Bati è arrivato dal Togo, è uno dei richiedenti asilo che si trova a Calenzano, ospite della Caritas. Quest'anno, come già avvenuto lo scorso anno, si occuperà di raccogliere le olive nei giardini pubblici in un progetto di integrazione promosso dal comune di Calenzano insieme alla Caritas. Circa un anno fa siamo venuti in questo giardino insieme a due nostri ospiti che hanno raccolto inizialmente le olive insieme al comune di Calenzano. Dopodiché si sono occupati dell'imbottigliamento e anche della vendita dell'olio. Oltre alla raccolta delle olive, i richiedenti asilo si occupano di seguire tutto il percorso che porta all'imbottigliamento dell'olio con l'etichetta l'olio buono di Calenzano. Quest'idea dell'olio nasceva proprio di mettere al lavoro, quindi di impegnare i ragazzi in richiesta di asilo su un'opera di solidarietà per gli italiani bisognosi. Partendo da quello del nostro prodotto caratteristico che è l'olio di Calenzano, di cui il comune possiede varie piante nei giardini, nelle scuole, nei vari appezzamenti che ha, facendolo raccogliere a loro insieme a volontari nostri, creando anche socializzazione tra i ragazzi e i volontari e poi facendo dell'olio che viene venduto a sostegno della Caritas di fondo unitario. Quindi con l'olio prodotto da richiedenti asilo finanziamo dei progetti a sostegno degli italiani bisognosi. Voltiamo pagina perché la regione toscana lancia la campagna per la vaccinazione anti-influenzale per la stagione 2016-2017. 700 mila le dosi di vaccino già acquistate con l'obiettivo di raggiungere il maggior numero di persone possibili. Vediamo il servizio. L'inverno è alle porte, l'influenza pure e in Toscana parte la campagna di vaccinazione anti-influenzale che ha come obiettivo quello di raggiungere il maggior numero di anziani e di persone a rischio, bambini e malati cronici e ridurre così del 70-80% la mortalità legata all'influenza. Dal 2009, quando la vaccinazione raggiunse il 71% per gli over 65, infatti si è scesi al 52% di copertura vaccinale nello scorso anno. Il numero di decessi per influenza dovuto da questo calo di vaccinazioni in un anno è passato da 2 a 23 casi. Da qui l'appello della regione a recarsi dal proprio medico nelle strutture pubbliche per farsi vaccinare. Voglio ricordare che l'influenza è oggi una malattia che si ritiene di minore rilevanza ma che purtroppo ancora oggi in alcuni casi provoca i ricoveri in terapia intensiva e anche qualche decesso. La regione ha acquistato 700 mila dosi di vaccino per quasi 5 milioni di euro di spesa. La vaccinazione contro l'influenza è gratuita per tutti gli over 65 e le persone a rischio. Gratuito anche il vaccino contro lo pneumococco, batterio responsabile di alcune gravi infezioni che possono colpire i soggetti più deboli. Il periodo migliore per vaccinarsi a novembre, visto che il picco dell'influenza è previsto tra dicembre e febbraio. E adesso parliamo di People Mover perché all'indomani dell'inchiesta che ha coinvolto per fatti legati a un giro di corruzione l'ex direttore del cantiere del People Mover Giampiero De Michelis e alcuni rappresentanti di Pisa Mover, il sindaco Marco Filippeschi annuncia che Leitner, già capofila della società privata Pisa Mover SPA, ha garantito che rapidamente sarà riconvocato un consiglio di amministrazione durante il quale saranno riassegnate le responsabilità toccate dall'indagine. Il sindaco Marco Filippeschi ha tuttavia precisato che il cantiere del People Mover, stazione centrale aeroporto, è nella fase conclusiva e il mezzo di trasporto è già in fase di collaudo. Adesso voltiamo pagina e parliamo di istruzione perché è stata inaugurata all'Università di Firenze la nuova cattedra UNESCO sul rischio idrogeologico, una cattedra che si aggiunge alle oltre 700 che l'UNESCO promuove già in tutto il mondo. Sentiamo i dettagli nel servizio. Inaugurata all'Università di Firenze la nuova cattedra UNESCO in prevenzione e gestione sostenibile del rischio idrogeologico, la prima in Italia nel suo genere. Un corso che partirà dal prossimo anno accademico sotto la guida del professor Paolo Canuti che si pone come obiettivo formare nuovi esperti in grado di prevenire e limitare frane ed alluvioni. Le lezioni che si terranno solo in lingua inglese saranno rivolte a studenti magistrali e dottorandi che avranno la possibilità di progettare strumenti atti a monitorare e prevenire il rischio frane nonché a prendere parte ad azioni sul campo. L'idea del corso è nata dai docenti Nicola Casagli, Claudio Margottini e Fabio Castelli. Finora abbiamo sempre lavorato come singoli, spiega Casagli, ma grazie alla convenzione con l'UNESCO potremo intervenire in una cornice istituzionale coinvolgendo anche gli studenti e infine, aggiunge, sarà più facile ottenere finanziamenti per borse di studio. La Casa di Cura a Villa Donatello di Firenze ha realizzato e presentato il programma Viver Meglio, teso a migliorare lo stile di vita dei cittadini attraverso una serie di accorgimenti e percorsi su misura. Presente alla tavola rotonda anche il vice sindaco di Firenze, Cristina Giacchi. A volte il più importante delle medicine è il saper vivere o il viver meglio. Proprio così Villa Donatello, importante realtà privata tra le case di cura del Fiorentino, ha chiamato un nuovo progetto volto a sensibilizzare la popolazione a correggere le proprie abitudini elementari e di vita, guadagnando salute ed efficienza fisica. Un progetto che trova fondamento anche nelle recenti rilevelazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha individuato una profonda correlazione tra stili di vita e stato di salute, soprattutto per patologie quali obesità, ipertensione, colesterolo alto, ma anche cancro, malattie cardiovascolari, respiratori, diabete. Il nostro obiettivo è quello di definire un programma che aiuti le persone a cambiare il proprio stile di vita. Molti ci provano, pochi ci riescono. Perché? Perché c'è bisogno di una serie di supporti, perché la dieta fai da te o la palestra o andare in giro difficilmente raggiunge risultati nel momento in cui non c'è un programma che è tagliato su misura per i miei obiettivi. Il programma Donatello Viver Meglio è dedicato a tutti coloro che si sentono bene o meno, che abbiano voglia di recuperare uno stile di vita sano e migliorare le proprie abitudini già praticate. Presenti alla conferenza di presentazione anche le istituzioni regionali e comunali, quest'ultime nella persona del vice sindaco Cristina Giacchi. La spesa sanitaria, ne siamo orgogliosi, è una delle nostre spese principali di amministrazioni pubbliche a tutti i livelli, antilocali e nazionali, e il governo centrale. Questa spesa però ha bisogno di essere ottimizzata e razionalizzata. Allora uno stile di vita e una condotta più salubre rende migliore, più sana, rende migliore e più efficiente la spesa pubblica. E a Borgo San Lorenzo si svolte un importante corso di formazione sull'omicidio stradale alla presenza di 37 membri del Corpo di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Mugello. Vediamo il servizio. Un corso di formazione sull'omicidio stradale. Gli agenti di Polizia Municipale dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello hanno partecipato all'importante aggiornamento sul tema della legge del marzo 2016. Una due giorni suddivisa tra teoria e pratica, curata dalla Scuola Interregionale Toscana Emilia Romagna e Liguria, che ha visto al centro dello studio il reato di omicidio stradale. Per il lavoro che siamo a fare, ha dichiarato il comandante della Polizia Municipale dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, Marco Bambi, è importante un aggiornamento costante e continuo che possa tenerci al corrente di ogni nuovo risvolto legislativo. L'obiettivo di questa esercitazione è per dar corso a molte incertezze venute fuori a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge sull'omicidio stradale, sia per noi operatori sia per informare gradualmente cittadini, conducenti e tutte le persone interessate, perché la materia è molto importante, anche nuova e comunque una materia che si deve gestire in modo molto meticoloso e con molta cura e professionalità, perché sono previste delle pene che arrivano addirittura a 20 anni. E adesso una notizia di poco fa, il Tar annulla la gara del trasporto pubblico locale, il bando resta in piedi ma si devono trovare nuove offerte. Bocciato il piano economico finanziario di RATP che aveva vinto, ma anche quello di Mobit. Studio Tg termina qui, vi ricordo soltanto l'appuntamento di questa sera con Telegram alle 20.35, dove Alessio Poggione ospiterà Simone Gheri, segretario generale di Anci Toscana. È tutto, a tutti l'augurio di una buona giornata. Grazie.